Amici sportivi, amici scommettitori, che sole che c'è, mamma mia che mi sta accecando proprio, proprio mi sta accecando. Benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale, pronostici della Serie A della ventitresima giornata. Prima di iniziare, come sempre, voglio fare un saluto ai miei nuovi iscritti, saluto Chemist1 e Nicola De Crescenzo, che è già un mio iscritto, ma mi ha chiesto di salutarlo e io lo saluto. Gli altri non vi siete manifestati, non mi avete scritto salutami, nome e cognome, vabbè, comunque io vi saluto lo stesso e vi ringrazio per l'iscrizione. Detto ciò, partiamo con i pronostici della ventitresima giornata, che partono con Roma-Bologna. Il Bologna che è in Serie Positiva da qualche partita. La Roma ha perso malamente col Sassuolo, solitamente la Roma fa così, gioca 4-5 partite buone, poi capitola, perde con chiunque, diciamo, in malo modo. Adesso è già successo, secondo me la Roma può vincere, anche perché è appaiata con l'Atalanta al quarto posto, quindi non può perdere altre occasioni. Uno, Fiorentina-Atalanta, una sfida molto bella, in Coppa Italia ha visto vincere i viola per 2-1. Secondo me questa qua può essere una sfida o da X2 o da over 2,5. Torino-Sampdoria, allora il Torino che ha esonerato Walter Mazzarri, in panchina è arrivato lungo, la Sampdoria che invece ha perso col Napoli, però ha giocato una buona partita, secondo me. Diciamo che il Napoli l'ha trovato in un periodo di forma eccellente. Potrebbe essere una partita dove le squadre non vogliano farsi male, quindi per me potrebbe finire con un X, un punto a testa e non ci facciamo male. Verona-Juve, partita difficile, il Verona è veramente, forse la vera rivelazione di questo campionato, una squadra che è al settimo posto in classifica, ha un passo dall'Europa League, dalla zona Europa, però la Juve è forte, è veramente forte. Parlo da scommettitore, la quota della Juve fuori casa col Verona sarà una bella quota e quindi va giocata. 2. Spal-Sassuolo. Il Sassuolo che mi è piaciuto, mi è piaciuto, ha fatto un'ottima vittoria con la Roma. La Spal che invece ha vinto una delle ultime cinque partite, una squadra che quest'anno sta facendo veramente fatica, specialmente in casa. Qua ci vedrei un X2. Brescia-Udinese è la sfida tra il penultimo e il terzo ultimo attacco, diciamo, quindi non lo so, potrebbe starci un under 2 e mezzo anche in questa partita qua. Napoli-Lecce 1, anche se Lecce ha vinto col Torino e ha fatto una bellissima vittoria. Napoli sta entrando in uno stato di forma che lo vede in risalita, quindi deve sfruttare questa occasione per vincere e fare tre punti. 1. Genoa-Cagliari, per me sarà una partita da gol. Chiudiamo con Parma-Lazio che secondo me questa sarà una sorpresa. La Lazio mi sembra il leggero calo. Ha giocato in settimana contro una bella squadra che è il Verona. Secondo me il Parma potrebbe approfittare di questa cosa. Per i più coraggiosi mettete l'1. Per chi si vuole coprire mettete l'1X. Il derby ovviamente non lo pronostico perché per chi mi conosce sa che io sono interista, quindi per scaramanzia o perché comunque sono troppo di parte non riesco a dare un giudizio normale all'Inter e quindi non la pronostico. Basta. Io vi saluto, vi auguro di vincere tanti soldi, giocate 3-4 partite massimo, non tutte perché sono veramente difficili da prendere tutte. Andate a vedere il mio video che si chiama 3 metodi per scommesse vincente e prendete spunti per le vostre scommesse. Ciao a tutti!